a Signori siamo in diretta Siamo in diretta Abbiamo portato su le ultime cose per allestire la casa Ragazzi Ragazzi ma vogliamo far vedere questa casa? Facciamo vedere questa casa Andiamo, allora partiamo Il bagno 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 c'è, ventola c'è Ok Il bagno Poi Sala giochi Attenzione intorno all'oscurità Siamo sott'acqua perché è tutto buio La sala giochi Vogliamo spendere due parole su questa sala giochi Beh è una sala giochi dove ci potranno essere molte sfide Molte sfighe A calcetto, miliardino, ping pong Fighissimo, fighissimo Scusatemi, notate le mani che ormai ho assunto anche la postura di un venditore Eh dai Tipo di mondi al caso Vedete le finiture di pregio Ottima vista Ottima visuale Usa la stecca, mondi al caso Ti aspetta Giardino inervito e piantumato Ok e questa era la sala giochi Proseguiamo Proseguiamo, proseguiamo Andiamo Si spengono le luci di quell'ultimo caffè E intanto continuiamo a seguire i nostri eroi Presentiamo il responsabile della casa Prego Presentiamo il responsabile della casa Il signor Ivano Il responsabile della casa Che ci sta facendo Il responsabile della casa Continuiamo il nostro tour Perchiamo